Igiene Service è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Tutto pronto per il 24esimo giro pudistico dell'Isola d'Elba. Cinque tappe caratterizzeranno anche l'edizione di quest'anno che prenderà il via lunedì 19 dal Parco delle Terme di San Giovanni e terminerà sabato 24 maggio a Rio Marina. Le altre tappe si svolgeranno a Capolibri, Porto Azzurro e Rio Elba per un impegno complessivo che sfiorerà i 50 chilometri. L'abbinamento sport e turismo credo che anche quest'anno sia stata la formula vincente. Abbiamo trovato questa collaborazione con le Terme di San Giovanni e l'Hotel Airone che finalmente sembra smuovere qualcosa di interesse da parte anche dell'Isola d'Elba. La gara inizia il 19, lunedì 19, sono cinque tappe come al solito. La prima qui a Portoferraio proprio nel Parco delle Terme di San Giovanni. La seconda tappa andiamo a Capolibri con il Monte Calamita, quindi una tappa abbastanza difficoltosa. e la terza tappa abbiamo in programma quella di Porto Azzurro. Anche quest'anno entriamo all'interno del penitenziario, della casa di reclusione di Porto Azzurro e ringraziamo l'amministrazione carceraria che ci ha dato ancora una volta questa opportunità di far conoscere l'interno del carcere ai nostri podisti. Poi abbiamo il giorno di riposo, la tipica tappa, il tappone di Rio Elba con la salita delle panche quindi una gara abbastanza tosta dal punto di vista impegnativo e la chiusura a Rio Marina sabato prossimo con le premiazioni nel pomeriggio e poi la festa finale della sera.